Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Club del Credito. Oggi ci occuperemo nell'ambito della rubrica sulla dimensione d'impresa della definizione di MidCap, un aspetto che abbiamo vagamente affrontato nelle prime puntate sulla dimensione d'impresa, in modo particolare quando abbiamo parlato delle PMI, oggi brevissimamente accenneremo al concetto di MidCap semplicemente perché nell'ambito del panorama delle agevolazioni o delle garanzie pubbliche gli enti stessi interpretano in modo differente il concetto di MidCap. Ricordo che nelle puntate precedenti abbiamo avuto modo di approfondire il tema delle piccole e medie imprese, di come si determina la dimensione d'impresa, del concetto di impresa autonoma, di impresa associata e di impresa collegata, nonché dei collegamenti tra persone fisiche e la loro rilevanza nell'ambito della dimensione d'impresa. Per poter visualizzare tutte le puntate precedenti e le puntate che verranno su questa rubrica e su altre rubriche, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube clubdelcredito.it dove potete scaricare tutto il palinsesto e le relative slide a corredo di ogni puntata. Bene, come sempre anche oggi facciamoci supportare brevissimamente da queste slide per accennare e verificare il concetto di MidCap. Riprendiamo quindi una delle slide che abbiamo in qualche modo già verificato nelle puntate precedenti dove potete vedere alla prima slide il tema delle MidCap era distinto fra realtà con effettivi, cioè con dipendenti inferiori a 499 oppure tra effettivi tra i 500 e i 1499. Tutto quello che è a sinistra è il panorama delle PMI che abbiamo già affrontato nelle puntate precedenti, tutto il resto invece siamo nel mondo della grande imprese. Quindi se vogliamo le MidCap sono una forma intermedia fra il mondo delle piccole e medie imprese e il mondo delle grandi imprese. Così come è possibile brevissimamente vedere un cenno nella slide 2 quello che in termini anglosassoni viene definito un middle size capitalization, ossia una società quotata di media capitalizzazione. Chiaramente non esiste una definizione unica ma l'aspetto fondamentale che a differenza del calcolo della dimensione di impresa di una PMI come abbiamo già avuto modo di verificare occorre prendere in considerazione tre distinti parametri, cioè i ricavi, il totale attivo, cioè i dati contabili più gli effettivi. In questo caso si mira esclusivamente a prendere in considerazione gli effettivi e quindi a non considerare i dati contabili anche delle eventuali imprese collegate e o associate. Di fatto come esprime ed è possibile visualizzare nella terza ed ultima slide vedete che il concetto di MidCap ha due sfumature, la prima è riconducibile alle realtà che hanno meno di 499 effettivi, ovviamente trattasi anche di effettivi che devono essere superiori o pari a 250, altrimenti occorre fare una verifica se quella stessa impresa è una piccola media impresa, oppure effettivi che oscillano fra i 500 e i 1499. Questa distinzione nasce per il diverso comportamento da parte di alcuni enti nel poter consentire l'accesso al mondo o delle agevolazioni in generale o al mondo delle garanzie. In particolare il fondo di garanzia nel definire una MidCap prende in considerazione la prima definizione, cioè quella dove gli effettivi, in questo caso a livello del singolo soggetto e non a livello di gruppo, quindi vengono esclude tutte le realtà collegate e associate al singolo beneficiario, dove gli effettivi sono inferiori a 499. Quindi per il fondo di garanzia un'impresa che ha 500 dipendenti rientra non nel concetto di MidCap, bensì nel concetto di grande impresa. Diversamente altri enti, e ne ho citati qua due, Finlombarda che è la finanziaria della regione Lombardia e Simest che è un ente che opera prevalentemente per supportare le imprese nei loro progetti di internazionalizzazione facente parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, considera la MidCap con un'estensione più ampia, ossia imprese che di fatto hanno un numero di effettivi che oscilla dai 250 ai 1499, cioè fino a 1499 dipendenti per questi due enti, o meglio per le agevolazioni che loro gestiscono, sono considerate le MidCap. Chiaramente, a differenza invece del fondo, il calcolo non deve essere fatto sul singolo beneficiario e sul singolo richiedente l'agevolazione o la garanzia, bensì deve essere fatto a livello di gruppo, in quanto nell'ambito della definizione di MidCap c'è un rimando all'allegato 1 del regolamento di esenzione, ovvero il regolamento 651 del 2014. In tema di regolamento 651 ricordo che abbiamo dedicato una puntata ben specifica. Quindi anche oggi abbiamo avuto modo così brevissimamente di conoscere un significato nuovo, quello delle MidCap, con delle distinte sfumature e soprattutto sfumature che sono importanti a seconda di chi è l'ente che in qualche modo gestisce l'agevolazione o nel caso del fondo di garanzia la garanzia pubblica. Io quindi ho concluso anche oggi questa breve pillola informativa, come sempre se avete necessità di ulteriori specifiche potete liberamente scriverci alla nostra mail info.clubdelcredito.it, vi saluto e vi auguro buona giornata a tutti.